Ma da stare qui se non sai cosa c'è da fare, qui devi stare, ora impara cosa c'è da fare, non sta più in piedi? Poveretta? Caro Luigi! Sono qui? Caro Luigi mio, veniva aiutarmi a fare il pollaio, di tutto, poi non ho mai voluto niente, prendevo a casa un po' di mangiare, ci facevo da mangiare, è ovvio. Poi dicevo, se ti va infame o sente, bevi un uovo fresco. Dopo mi è venuta la disenteria, la porta si bella. Ma non mi è colpa io, però stava bene con me. Cosa fai, filmetto? Ma sto provando a vedere cosa viene. Ma sta bene che non lo voglio far vedere a lei che non dica vai, da una vicina. No, no, no. Allora vai, ciò per tu, vai. Ti fa anche te, eh? Certo. Eh, no, devo fare tutto il giro. E poi se ti vede lei? Adesso la tieni tanto qui. Eh, la Madonna. Per sempre. Maria Rosa. Vai? Pronto? Dove sei? Dimmelo a me. Ma sono già buone da mangiare? Ma addio, le nere. Le nere però, vedete? Quelle rosse. Le rosse sono queste. Solo nere. , se vuoi? No. C'è? C'è? buongiorno ma dov'è la no la sua vicina quella a credo che fosse no quell'altra era andata al mare è stata al mare otto giorni e poi adesso è arrivata è arrivata ieri sera come sono sono buone quelli sono buone sono un po' indietro per me sì ma se si lasciano lì maturano geni vedo che ti va chiestando la bargoa no no la bargoa è letta nel mio letto macchia macchia sapete tesoro abbiamo già mangiato lo vedo ti ha già mangiato a manca me in comune e beh sta venendo a piovere cattive te luigi vai giù a vedere se l'asta aperta che io non credo che sia aperta giù dalle galline però aprieste la sonde è giù dalle Luba 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 Grazie a tutti. 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 Chi è che l'ha aperta? Io. Ma cosa riempiva? Ah, quelle ciotole dei polli. Arriva la fiorella? Ma se l'ha aperta, non c'ha presa. Ma se l'angeli è pulito, leo troppo bella schegna. Beh, comunque hanno fatto un bel lavoro, eh. Vero? E' un'altra cosa, ma se l'ha metto da qui, aspetta che metto un altro bel, vieni dentro. Vengo dentro? Vengo dentro? Guardi io. Chi ha fatto le confetture di mora, la Mirella? No, no, Ivano, Ivano. Ah, bravo. Ah, bravo. Ah, bravo. Oh, questi qua teneri che sono qui, più indietro, vedi? No, no, sì, sicuramente. Si cattengono, eh. Non troppo, però, eh. No, ti dà un metro, proprio. Ecco, poi adesso cosa ci mettiamo? Un po' di prugne. Basta. Ah, grazie. Aspetta per vedere cosa è questa. Queste sono quelle dorate. Le prugne. No, qui non c'è. Vado di là da me, che ce ne trovo uno. Facciamo un miscoglio. Ho preso una cosa nuova. Una sportina nuova perché staviamo avanti per colori. La sportista non mi piace proprio, eh. Allora, devo guardare dove sono le prugne. Ma poche, non... Un paese, eh. Un paese, eh.